Vivo compiacimento per i rapporti tra la Santa Sede e la Slovacchia è stato rimarcato durante l'incontro tra Papa Francesco e il Presidente Slovacco Andrei Kishka ricevuto stamani in Vaticano. Nei colloqui svoltosi nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l'allora Repubblica Federativa Ceca e Slovacca ci si è soffermati sull'attuale contesto internazionale con particolare attenzione alle sfide che interessano alcune aree del mondo, specialmente il Medio Oriente e all'importanza della tutela della dignità della persona umana. Successivamente la Presidente Kishka ha avuto un incontro in segreteria di Stato con Monsignor Camilleri, sottosegretario per i rapporti con gli stati.